Buonasera, benvenuti alla terza partita della semifinale. Hanno vinto San Nino Vigni, che hanno giocato contro Silvestri e Bar Langolo. Allora, questi ragazzi hanno vinto 4-0. Presentatevi. Ma tu, cioè, l'hai vista la partita? Comunque, Paolo, ha fatto bene. Alessandro Borriello. Grazioli. Non dire un nome falso. Armando Carrino. Bago Vieri. Egli ha? Pietro Liglia. Lorenzo Castaldo. Ciro Zinno. Martino. Ciro Zinno è presente ovunque, ha anche perso oggi. Comunque, Fabio, tu sei il capitano, non c'è nessuno. Chi è il capitano? Io. E tu? Oh, e com'è andata la sortita, capitano? No, è andata bene. Sinceramente, io, a prescindere da come andrà la finale, volevo dedicare questa vittoria al Mavericks. Perché, poi ti spiego. Bene, misterioso. Anche lui è capitano, mi è qua? Co-capitano. Co-capitano. Co-capitano Martino. Io sono Martino, capitano di giornata. Non capitano. Di giornata, io? Di giornata. Dica. No, è stata una partita, allora, devo dire la verità, equilibrata. È finita 4-0, però loro si sono mangiati un sacco di gol. È sfortunato. E lui viene, è il campione della giornata. Buongiorno, benissimo, signori. Prego. Allè, presenti. Aldo Spaziani. Cosa vuoi? Lucazza. Il mondo è colorato, ragazzi. No, volevamo dedicare questa vittoria a Nello Ascione. Il vero capitano della squadra, della squadra, non della chiesa. E in realtà volevo, posso dedicare il mio gol a mia cugina che mi è venuta a sostenere. Che temera. Ma cosa vuoi dedicare? Dedica ai suoi 5 minuti a Marianda. Allora, voglio dedicare i miei 10 minuti alla mia ragazza e come ogni partita è il mio gol, perché senza di me non hanno potuto... Ma è vero, non ha segnato l'aspetto. Dica. Vorrei dire che 10 minuti non solo in campo, ma anche a letto, quindi... Sta scherzando, sta scherzando. Allora, ha segnato Rigliari qua, che ha segnato... Quante donne? Che cosa? Ah, no, vabbè, è delico il mio gol a Orni. Mi dispiace per lo scherzio finale, è stato tutto di un malinteso. Però, vabbè, sono andato contro ogni pronostico. Sono andato in finale, ringrazio la squadra, che è fortissima. Bene, bene. Poi ha segnato Faella. Che è stato a lui? Beata lui, che sta a caldo. E Ardolino, dove sta Ardolino? Che anche... Vieni, vieni. È timido, è timido. Vieni. Vabbè. Vabbè, io chiederei. Cioè, chi segna deve venire a fare la partita. Martino, Riglia, Faella, Ardolino. Vabbè, comunque tu ti qualcosa? No, niente, sono felice. Anche io. Io volevo dire che è ufficialmente chiusa la campagna 5 per mille per Armando Carvino. La raccolta è stata di un euro della mamma di Armando Carvino. E basta. Ringrazio la Maverix per aver contribuito a questa ricerca. E ovviamente te devi con la mia ragazza. Ti amo, amore mio. Ciao. Ciao dalla Maverix. Ah, stai qua.